Due squadre di volley, una maschile ed una femminile che vincono i loro rispettivi campionati nel 2016 e due allenatori che raccolgono i giusti allori. Fin qui nulla di strano, se non fosse che i due allenatori sono tutte due fanesi. Non capita spesso che due coach della stessa città diventino campioni d'Italia nello stesso anno e nella stessa disciplina. E' successo a Fano con Angelo Lorenzetti e Davide Mazzanti, con le squadre di Modena e Conegliano. Una straordinaria coincidenza per un grande risultato che Fano e l'amministrazione comunale hanno voluto celebrare assieme ai due allenatori al Teatro della Fortuna in serata. In una sala verdi gremita di appassionati e sportivi, ai due tecnici vittoriosi abbiamo chiesto loro le impressioni e le sensazioni per questo grande risultato. Sicuramente è stato uno scudetto faticoso perché sulla mia squadra c'erano tante aspettative e devo dire che vivere quest'anno da favoriti è stato molto più faticoso rispetto a quelli precedenti, però è stata una soddisfazione immensa perché secondo me in questa stagione sono cresciuto tantissimo gestendo queste tensioni e poi culminare la stagione con questa vittoria è stato un premio importante. Mi piacerebbe dedicarlo un po' a tutti quelli che hanno partecipato a questo percorso e parlo soprattutto delle persone con cui ho iniziato qui e ce ne sono veramente tante e non faccio i nomi perché altrimenti escluderei qualcuno, però tutte le persone con cui ho iniziato a fare il pallavolo qui a Fano. Una felicità immensa e una gratitudine verso la fitta che mi ha messo vicino a un ambiente, a dei ragazzi spettacolari che mi hanno consentito di alzare le braccia al cielo e un bacio questo che so io.